Siamo qui nel cortile del liceo Volta con Abedin che viene dal Ghana. Vieni più vicino perché c'è troppo rumore. Gli chiediamo cosa sta succedendo, cos'è questo gruppo, cosa sta facendo? Praticamente siamo qua per il volontario di una festa che sta arrivando in Saloni di Gusto. E come emigrati anche noi vogliamo partecipare nel benessere della città di Torino. Ma cosa fate con questi bidoni? Qui stiamo allenando come raccogliere i rifiuti, sia cartone, sia organico, sia immigrati. E gli studenti? Gli studenti sono qua anche per partecipare, per aiutare gli emigrati che non capiscono bene la lingua. Noi cerchiamo di unire in forma di anche combattere l'assistema per conoscersi molto bene. Quindi praticamente tu hai già capito bene come sarà il lavoro. Controllate i rifiuti? Eh sì, praticamente anche io faccio la differenziata a casa, ma qua ho studiato anche molto per poter fare questo lavoro. Praticamente voi dovrete fare da filtro, da controllo, controllare, aiutare la gente in quei bidoni che il cameraman ci fa vedere a mettere le cose al posto giusto.